Calciomercato Milan, Inaki Williams è uno dei talenti più interessanti presenti nella Liga Spagnola. Il nome del gioiello dell'Atletic Bilbao è stato accostato a più club europei nel corso dell'ultimo mercato estivo. Il 23enne esterno offensivo sicuramente tornerà ad essere tra i giocatori al centro di trattative nella prossima estate. Se il suo rendimento si confermerà su ottimi livelli, non c'è dubbio che possa concretizzarsi un trasferimento dalla sua attuale squadra e una big europea. Tra le società accostate a Inaki Williams ci sono Borussia Dortmund, Inter, Liverpool e anche Milan. Questi sono i nomi suoi quali il quotidiano AS ha interpellato il ragazzo nel corso di un'intervista nelle ore scorse. Che squadre tanto grandi si interessino a te, e possano volerti vincolato a loro fa piacere? Significa che sto facendo bene. Se valgo 50 milioni? Non lo so quanto valgo. Il presidente ha messo quella clausola e vedremo cosa succederà. Il talento dell'Atletic Bilbao ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, e ciò equivale al prezzo fissato dal club basco. Una valutazione molto elevata e sulla quale ogni pretendente sicuramente riflette, perché si tratta di un investimento decisamente costoso. Il Milan al momento non ha sicuramente Williams tra le proprietà priorità attualmente.